Dicono così a Box Marche, che è il vincitore del Best Green CSR Printer. Questa è una grande occasione per noi. E questa è una grande occasione anche per parlare di voi, non solamente come azienda produttrice, ma anche per un grande impegno nel sociale che avete. La giuria vi ha scelti anche per questo. Parliamo di un'iniziativa superlativa di cui voi siete promotori e capi cordata. La costruzione di una scuola nel comune di Pieve, Torina, Macerata, che è stato pesantemente colpito dal terremoto del 2016. A che punto siamo con questa ricostruzione? Siamo a buon punto perché la inaugureremo il 16 dicembre. E manca pochissimo. Verrà terminata adesso, a fine novembre, poi il tempo di mettere tutti gli arredi e fare pulizie. Quindi li inaugureremo il 16 dicembre. Fra l'altro invito tutti i nostri colleghi e amici imprenditori della cartotecnica e della stampa, che ci hanno dato anche una bella mano nella raccolta fondi. A quanti studenti darete la possibilità di tornare sui banchi di scuola? Sono 120 studenti della prima, diciamo, delle elementari e le medie. E senza questo aiuto cosa sarebbe successo? Beh, niente. Non sarebbe successo niente. Sarebbe rimasto tutto così? Beh, abbiamo, diciamo sì, beh, se aspettavamo, se aspettava il comune di Pievetorina, gli interventi del pubblico, probabilmente fra 3-4 anni avevano la scuola. Questa, fra l'altro, non è una scuola provvisoria, è una scuola di 1300 metri quadri, è una scuola che è definitiva, su due piani, quindi abbiamo bella, funzionale e sostenibile. Abbiamo messo insieme un bel progetto. Qui grazie soprattutto anche a tanti amici, imprenditori, enti, i nostri operai, i nostri collaboratori. Quindi, grazie anche alla stampa che c'è stata mica, io vedo giù, i buon lavorini e tanti altri che ci hanno dato una mano per raccogliere e fare questo. Noi abbiamo piantato il seme e poi è venuto il resto. Beh, sta crescendo un bel albero, direi che... Beh, sì, sì, stiamo parlando di un milione e mezzo di euro. Eh, insomma, davvero... Cioè, non è merito nostro tutto, però abbiamo... Beh, ci vuole sempre qualcuno che dà il via, però, i progetti, altrimenti... Ci siamo divertiti, diciamo, siamo molto divertiti. Grazie. Grazie davvero e complimenti ancora e grazie anche allo sforzo. Ecco, io però vorrei... Perché ci sono questi due miei amici, perché anche loro, insomma, ci hanno dato una bella mano. Ecco, qui c'è Giuliano, che è il nostro amico e responsabile della comunicazione. E poi c'è Sandro, che Sandro non c'entra niente con noi della stampa, perché lui fa il lucio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.